Buongiorno, siamo a Roma, siamo nell'ambito dell'undicesimo congresso della Federazione Italiana Medici Pediatri. Parliamo con il dottor Nigri di quelli che sono i focus di questo congresso, insieme ai bambini, insieme a noi e vuol dire anche non prendersi cura solo della salute, strettamente salute dei bambini, ma anche di quella che è il benessere, i bambini per farli crescere sereni. Quali sono le criticità emerse e poi ovviamente le soluzioni? La salute nasce dal benessere, è evidente. Prima, tanti anni fa, del bimbo si preoccupava delle tonsilliti, delle faringiti, delle patologie che erano importanti, sì, ma legate a un'epoca. Oggi il bambino ha altri problemi. Oggi il bambino vive in un ambiente sempre più inquinato, vive con problemi che possono degenerare in situazioni familiari, in ambiti circostritti. Il bambino può essere trascurato, può essere abusato, il bambino diventa un oggetto di tutte le tensioni dei grandi. È sempre più diffuso purtroppo e aumenta l'uso di droghe leggere e non. Quindi su questi temi FIMP è impegnata in prima linea, impegnata con dei progetti specifici di cultura e soprattutto di prevenzione attiva. 5.700 pediatri che tutti i giorni incontrano i bambini italiani e le loro famiglie sono una forza importantissima che non solo fa cultura, ma soprattutto agisce. Agisce e tenta di arginare queste problematiche, che sono le problematiche del futuro dei nostri adulti e oggi quelli che sono i nostri bambini. Scendiamo un po' nei dettagli di alcuni di questi argomenti. Cominciamo proprio da quello che è l'inquinamento ambientale. Sappiamo lo smog e soprattutto chi vive nelle grandi città, ma non c'è solo quello. Quindi conoscere informazioni alle mamme su quali sono i rischi e come si può fare prevenzione. Prevenzione si può fare innanzitutto con un'azione sociale. Ormai è evidente che molte delle patologie emergenti sono legate all'inquinamento, che è quello ambientale, che è quello dei cibi, che è quello acustico, che è l'inquinamento proprio del modo di vivere. Cioè stare davanti al tablet per ore o con un cellulare già dai 7-8 anni non è bello per un bambino che dovrebbe giocare all'aria aperta. Quindi il nostro impegno è soprattutto far capire alle mamme come nei limiti del possibile il figlio va protetto, perché patologie emergenti, lo vedremo fra qualche anno, gli studi sono in corso, ci saranno delle grandi sorprese, nascono proprio dal mondo che ci circonda e che noi purtroppo non riusciamo ad adrizzare, perché in cambiamento è già iniziato ma in negativo. Speriamo bene. Parliamo di abusi, parliamo di disagio psicologico, bambini molto piccoli a volte che comunque non comunicano quello che può essere successo, intercettare un disagio, quali campanelli d'allarme che possono essere così da stimolo per il genitore a rivolgersi anche al proprio pediatra e parlarne. Beh qui il problema è più complesso, è più complesso perché se parliamo dell'abuso in senso stretto dobbiamo dire che purtroppo la maggior parte degli abusi avvengono in famiglia o nell'ambiente circostante. Quindi il genitore è un ostacolo, a volte sa, a volte tace per ragioni di vergogna o di opportunità. Manca completamente o quasi completamente in Italia nella formazione universitaria una cultura di questi temi, sull'abuso, sulla violenza. FIMP si è impegnata a diffondere con un processo capillare questo e soprattutto mettere in condizioni i pediatri di famiglia attraverso un progetto ben mirato in collaborazione con altre società per affrontare questi problemi. Problemi che possono essere rilevati dai segni più svariati. Adesso non voglio mettere in apprezzione molte mamme, ma un bambino che cambia il proprio comportamento, lasciamo stare da quello che presenta i lividi, un bambino che ha un calo del rendimento scolastico, un bambino che va seguito con attenzione, un bambino che potrebbe nascondere qualcosa, più delle volte sono problemi interni alla famiglia. Il bambino che assiste alla violenza, alla lite continua tra i propri genitori è un bambino che subisce una violenza, un bambino abusato. Il bambino che è oggetto di ipercura, che appena si raffredda bisogna dargli per forza un farmaco. È un bambino che subisce una violenza, non è giusto. Noi ci impegniamo su questo, li proteggiamo, perché la maggior parte di questi casi rimangono nascosti. Dati sull'uso e sull'abuso di stupefacenti in età sempre più precoce sono sicuramente un altro campanello d'allarme a livello proprio di tutta la società, quindi famiglie, scuole, istituzioni, pediatri. Che cosa si può fare? Più che l'età cambia la percentuale, cioè l'età rimane quella della scuola, scuola media soprattutto, poi lasciamo stare le scuole superiori, purtroppo aumentano le percentuali ed aumenta l'utilizzo di droghe cosiddette leggere. Leggere non solo, sono solo il primo passo verso poi una situazione che porta ad alterare lo sviluppo psicofisico del bambino. Cioè il bambino che inizia a fare uso di queste sostanze riterrà che sia una cosa normale e poi potrà fare di tutto. È qui che dobbiamo intervenire, è qui che dobbiamo intervenire a braccetto con la scuola, con le istituzioni, con i media, con tutti quelli che possono far capire che è sbagliato. E soprattutto che può portare dei danni permanenti. Certamente, lo sviluppo psicofisico di un bambino finisce nella maggior parte dei casi a 18 anni, quando più, quando meno. Un bambino che a 11, 12 anni, 10 anni, 14 anni comincia a fare uso di queste sostanze, chiaramente altre alle proprie funzioni, proprio cerebrali. Parliamo dei social, un mondo ormai imprescindibile per i nostri piccoli e per i ragazzi. Cyberbullismo, difficoltà anche di costruire un'immagine del sé attraverso l'immagine che vediamo sui social. In questo caso, voi come pediatri, che riscontrate? Noi riscontriamo purtroppo un uso distorto dei social. I social potrebbero essere un'arma grandissima nei processi educativi, ma c'è una totale anarchia nella gestione, per cui spesso questi social lanciano dei messaggi che sono l'opposto di quelle che sono le evidenze scientifiche. Facciamo un esempio, parliamo di vaccinazioni, un tema attualissimo, ormai stradibattuto. Se lei va a fare una ricerca sui social, troverà un sacco di siti che dicono cose assurde, non vere e pochi siti che dicono la verità. Qui ci vorrebbe una regolamentazione perché uno strumento educativo non deve diventare uno strumento diseducativo. Ultimamente si parla molto dei primi mille giorni. Quanto possano costituire un tesoro di salute per tutta la vita? In questo caso sicuramente rientra anche l'allattamento, allattamento al seno. Sappiamo quanto importante l'impegno vostro come pediatri sull'informazione anche per le mamme e appunto che cosa vuol dire i primi mille giorni? Cosa devono sapere le mamme? L'allattamento al seno è la cosa più importante per un bambino. I primi mille giorni, tutti gli studi ultimi hanno evidenziato che la salute futura di un bambino, di un adulto, si determina nei suoi primi mille giorni di vita, compreso gli ultimi giorni nella pancia della mamma, diciamolo così. Quindi un'attenzione in questo periodo, delle regole chiare sull'alimentazione, sul mondo in cui il bambino vive, sull'approccio con la mamma, sulle relazioni personali con la mamma, col papà, determina quello che sarà un bambino adulto e lo determina anche in aspetti prettamente di salute fisica e non soltanto mentale come un benessere psicologico. Quindi noi stiamo portando avanti già da tre anni una campagna insieme al Ministero della Salute in cui facciamo capire alla mamma che nei primi mille giorni qualche sforzo e qualche attenzione in più significa un grande risultato nella vita futura di questo bambino.